buongiorno a tutti ragazzi anzi 119 volte buongiorno al popolo laziare oggi è la nostra festa della nostra Lazio 119 anni ragazzi di purezza e grandezza data alla città di Roma stasera vi do l'appuntamento faccio questo video per dare l'appuntamento stasera sul nostro canale youtube la voce dei laziali dove naturalmente si parlerà di Lazio dell'imminente futuro sabato 12 Coppa Italia Lazio Novara e poi ci aspettano due big match il 20 contro il Napoli il 27 in casa contro la Juventus parleremo vedere se la Lazio è abbastanza matura oggi per affrontare diciamo i due colossi del nostro campionato che sono la Juve e il Napoli accorrete in massa stasera ragazzi perché questo è il vostro canale il canale di tutti i laziali dove la voce la vostra voce è importante per far sentire alla Lazio che noi ci siamo ci siamo sempre non l'abbandoniamo mai vi do l'appuntamento stasera alle 18.30 canale youtube la voce dei laziali un abbraccio a tutti buona giornata vi do l'appuntamento stasera alle 18.30 canale